CINEMATOGRAFIA Partecipare da giurato a questo festival per me è una doppia opportunità perché da un lato mi permette appunto di vedere tutta una serie di film molto interessanti che testimoniano anche di quello che si sta facendo nella cinematografia mondiale per quanto riguarda la cinematografia riservata in qualche modo ai ragazzi o quantomeno agli adolescenti in realtà come spesso accade nei migliori casi il cinema è destinato a tutti quindi l'opportunità è anche quella di vedere cinematografie di differente tipo e approcci diversi proprio riguardo al tema quindi questa è una cosa che mi appassiona molto e mi piace molto il fatto poi che appunto però questi film siano destinati a spettatori del futuro e del presente è una cosa che mi responsabilizza ancora di più e l'unica cosa che posso dire è che passione è la parola cioè sto cercando di vedere ogni film se mi riesce anche più di una volta in modo da poter valutare secondo i miei gusti ma anche secondo quello che è l'impatto cinematografico che questi film producono cercando di giudicarli nel migliore dei modi però insomma come potete capire è un momento di grande esaltazione da spettatore prima ancora che da giurato prima ancora che da spettatore